benvenuti a questo nuovo episodio oggi come vedete sono un po ruffato perché sto mettendo a posto facendo un sacco di lavori ma cosa ve ne frega voi andiamo subito al dunque parliamo oggi di quello che è la ragione per cui io appunto parlo sempre di rap parlo sempre di hip hop però questo non è un episodio sull'hip hop anche se potrebbe sembrare che la premessa introduca adesso a questo argomento ma è un racconto sul perché io penso che per parlare di rap per parlare di hip hop c'è bisogno di parlare di blues c'è bisogno di parlare di storia c'è bisogno di parlare di tante altre cose ci sono persone che pensano che per parlare di rap si può parlare solo di rap ed esistono già sia belli che brutti sia interessanti che meno interessanti mettiamolo più che così dei libri che parlano di rap che parlano di cultura hip hop che parlano di bambata che parlano anche di quello che è successo dopo che parlano degli anni 90 che parlano di tutti i gruppi rap che vi piacciono anche di quelli che non vi piacciono che parlano della west coast dell'ice coast che parlano della della nascita della trepa anche che arrivano fino ai giorni nostri che parlano di tutte le cose commerciali fatte con david guetta che parlano dell'incrocio appunto del rap con la dance della della hip house negli anni 90 e negli anni 80 dell'elector dell'house negli anni 80 insomma tutte queste cose qua è molto interessante parlare di queste cose io sono sempre stato dell'idea che libri specifici di questi argomenti sono i benemeriti io non vedo l'ora che ne escono ancora altri cioè che parlino solo del rap che parlino solo degli ultimi vent'anni o degli ultimi dieci anni o anche degli ultimi sei mesi mi va benissimo cioè metto una biografia su nas che ne so ian gisi o goody mob 400 pagine di libro solo su di loro e le loro influenze no la pretap la pretrap e diplo l'ambient la vapor la trap e la dance in un'eterna ghirlanda brillante qualsiasi cosa che rappresenti quella che voi chiamate la modernità voi non inteso non intendo voi che mi guardate ma coloro i quali chiamano modernità la trap che in realtà è musica antica ma arriviamo anche a questo l'ho già detto comunque sapete già che cosa intendono quando dico la trap è antichità e si è già parte dell'antichità per parte della storia allora parliamo del blues e parliamo della trap e parliamo del rap secondo appunto determinate persone che sono quelle che appunto hanno scritto i libri e li conoscete bene in italia sull'hip hop sull'hip hop loro dicono che sono libri sull'hip hop secondo me sono libri che parlano un po di rap e di qualche altra cosa in questi libri ci stanno informazioni sul rap con una breve solitamente molto sbrigata introduzione sul bronx degli anni 70 che in realtà dovrebbe essere la parte più grande perché lì si stabiliscono i codici purtroppo sì tutto quello che c'è lì tutti quelli in america di cui che parlano di trap dicono chiaramente da soundfield a vox a agli accademici come robert d g kelly a trisha rose a tutti quelli che hanno scritto libri e la trap è un sottogenere del rap quando dicono la trap è un'altra cosa non hanno sì un'altra cosa rispetto al rap ma è un sottogenere cioè viene comunque dal rap non viene ebbè non viene dalla musica classica anche se ci sono delle cose da certa musicalità nella trap che sono prese dalla musica classica ma lo stile principale il bassone l'808 e la rap sono idee delle delle rap all'interno della cultura hip hop e anche all'esterno della cultura hip hop per chi ha studiato gli anni 80 sa benissimo che l'808 e il rap è una forma proprio un'unione di suoni a livello di produzione che è stata scelta da tantissimi artisti e negli anni 90 ci sono stati altri esempi che con cloni di 808 magari non con la batteria originale perché all'epoca era già più rara e difficile da trovare usavano diciamo questo abbinamento per delle produzioni che sono andate in vendita nei negozi distribuite e finanziate da major labels quindi e questo è un argomento ma perché il rap in generale è perché nella musica rap diciamo del rap classico di altri generi si pensa che bisognerebbe andare indietro nel tempo per capire perché questa si sia verificata e bene perché anche chi è chi ha fondato e chi ha creato questi tool queste forme artistiche che poi sono diventate il rap il djing il tutto il resto parliamo di questi due perché sono le cose anche il prodotto diciamo quella che non è considerato una delle quattro arti ma della della cultura della cultura hip hop ma che è anche fondamentale una skill fondamentale le production skill sono diverse dalla sia dal djing che dal rapping perché nel production skills ci sono ci sono sviluppati negli anni tutta una serie di produttori discografici cioè gente che faceva all'epoca dischi che stampava dischi che andava in studio e sapeva produrre dischi hip hop Dr. Dre è l'esempio di produttore rap barra hip hop cioè colui il quale è capace a produrre musica rap di qualità che si identifichi come tale e che non sia né musica lounge né musica funk né musica post disco vapor wave ambient tecno eccetera 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 ecc un sacco di nomi, sia da parte della East che della West e anche di tutte le zone intermedie, per esempio il rap di Philadelphia, sia quello dei primi anni Ottanta che quello che è venuto dopo il rap di Atlanta, il rap di Chicago cioè c'è un bulacco di roba ci sono i volumi di Hip Hop Regional, che continuo a consigliare vivamente anche se ormai sono un po' datati che contengono praticamente tutta una serie di diciamo informazioni sulla regionalità delle origini, sulle varie origini, varie regioni degli Stati Uniti, dell'Hip Hop eccetera quello che è importante da dire e da ricordare anche, è che appunto, quindi esiste una visione in tutto questo maestro che ho fatto adesso, che considera il rap fondamentale da un punto di vista pratico, cioè da un punto di vista del il rap è quello che è parliamone e teniamolo isolato dal resto della storia passata esiste però un'altra visione che è importante è quella delle persone forse più anziane come me come David Toop quelli che hanno scritto Brian Cross non mi viene in mente ma altri che hanno scritto diciamo di rap collegandolo alla musica afroamericana in generale è anche il caso di Trisha Rose che lo pensa inserito è il caso di tante altre di tanti altri di storici di di accademici adesso non mi sfugono i nomi ho tutti i libri davanti poi quando tiro fuori il libro sarà facile diciamo determinare l'identificazione fare l'identificazione dell'autore però queste persone ritengono secondo me a ragione che il rap è il blues il rap è il funk il rap tutte queste forme artistiche queste e sono secondo me anche culture musicali perché hanno stabilito proprio dei nuclei di personaggi che hanno dialogato all'interno e anche dall'interno all'esterno di questi nuclei nel mondo negli anni 70 80 90 si pensa al movimento dei funketeers al movimento più funk a quanto il funk abbia educato non solo musicisti al genere ma anche ad uno stile di vita a un certo punto la liberazione della musica tramite l'intensità del groove l'espressione del groove del musicista che va in jam che va in jam cioè una serie di cose che non sto a ripetere ma ci stanno negli episodi e questa cosa che è un po' al suo parallelo anche nella nella liberazione del sé di quello che è nel flow del rapper no? Parallelo un po' forzato però che molti rapper che ho intervistato in passato e anche molte persone lo hanno nelle interviste che hanno fatto per le varie riviste hanno detto questo io mi libero ogni tanto e poi il rap quando vado quando vado solo non so neanche più cosa dico no perché ovviamente c'è quella liberazione da se stessi che avviene miracolosamente tramite la musica che è uno dei dei modi più sani per uscire da se stessi una di quelle delle famose uscite delle vie d'uscita dal mondo vie d'uscita dal mondo ovviamente dove poi bisogna all'interno del quale bisogna rientrare dopo un po' come diceva Schopenhauer una sospensione o come dicono altri un'elevazione a un mondo parallelo diciamo tanto bello e tanto profumato quanto il nostro mondo non lo sia non lo è e quindi niente secondo questa visione abbiamo tutta una serie di passi attraverso i quali si di passi di tappe all'interno delle quali si sviluppa la musica afroamericana si sviluppano tutti i generi e gli stili e si arriva poi al rap tutto quello che segue fino alla trap le cose che abbiamo oggi eccetera perché io penso che non dico che bisogna sapere a memoria tutte queste cose ma è buono esserne coscienti e sapere almeno le tappe gli stadi più importanti della storia della musica afroamericana ma perché perché sempre più io vedo in giro gente che dice che la musica va studiata secondo quelli che sono i canoni della musica occidentale cioè della grande musica classica quella che noi chiamiamo la musica classica della grande musica occidentale anche diciamo non tra virgolette classica ma tutti i grandi compositori del cinema teatro eccetera eccetera europei ad americani e sembra che noi in Italia anche in Inghilterra come anche in America siamo tutti concentrati sul fatto che dobbiamo vivere di questa grande di questa grande musica occidentale come se fosse la base di tutto cioè come se la scala diatonica e la musica come la intendiamo noi fosse la base di tutto che per molti anni molti anni nel passato è stato così ma non non quando non non fino a quando ci siamo incominciati a interessare alla musica africana e abbiamo scoperto che anche in Africa senza la nostra scala diatonica c'erano africani che riuscivano africani non persone due o tre persone ma tantissime tribù tantissime tantissime popolazioni che facevano musica con le loro con i loro sistemi tribù isolate non non persone in grosse città che avevano recepito da colonizzazioni precedenti tutta un'istruzione musicale classica no ovviamente c'era anche quello in Africa ma io parlo di quello che è stato scoperto dai missionari quando sono andati ad analizzare come Arthur Morris Jones guardatevi status on african music pdf completamente free su internet se la sapete leggere bene inglese ve lo dovete studiare quella è la base della diversità cioè si sviluppa un sistema completamente diverso ritmicamente molto più evoluto del nostro molto più evoluto del nostro perché questa è la verità almeno i poliritmi africani sono delle cose più intricate e pazzesche che io abbia mai sentito in tutta la mia vita può darsi che mi sbagli e ci siano altre civiltà asiatiche o sudamericane non so da qualche parte che abbiano sviluppato una serie di poliritmi ancora più difficili e complessi però i poliritmi che io ho sentito a musica africana sono qualcosa di veramente incredibile e molti altri studiosi come il Jones il Gunther Schuller il Mazzoletti affermano più o meno la stessa cosa ovviamente poi esistono anche gli studiosi come Luca Cerchiari ed altri che dicono l'opposto che in Europa noi abbiamo già generato tutta una serie di poliritmi è vero che anche in Europa noi abbiamo generato tutta una serie di note musicali e coloriture vicine a quelle che sono le coloriture bebop è vero ad esempio se non mi ricordo se è Chopin o Debussy chi studi classica mi aiuti ma ce ne sono altri potete anche aiutarmi voi di classico che avete studiato bene il classico che hanno sviluppato tutta una serie di coloriture di fioriture musicali che si avvicinano a quelle che sono le fioriture del bebop che si è sviluppato appunto all'interno della cultura della musica jazz però questo per dire che mentre non esiste in uno studio musicale classico l'intenzione di parlare al di là delle armonie modali in senso generale dell'armonia modale in senso generale che è ritornata di moda nel novecento come ben sappiamo ottocento e novecento di quello che è l'apporto afroamericano perché se tu voi prendete qualsiasi testo che esiste adesso sull'armonia classica non vi parla dell'armonia afroamericana non vi parla del bebop a meno che non siano libri di jazz come ad esempio questo che sto leggendo adesso improvising blues piano dove ho tutti i miei esercizi e cerco di fare qualcosa anch'io ma non c'è questo non c'è non c'è proprio e quindi come la risolviamo la cosa come la risolviamo la risolviamo con l'affermazione che non siamo ancora pronti per accettare in pieno il fatto che è vero che con la nostra musica occidentale abbiamo diciamo noi esseri umani non io la collettività ha creato delle belle cose che sono probabilmente anche responsabili di molta musica di adesso ma che il grosso di quelle che sono le invenzioni che determinano l'attuale corso della musica che si ascolta in radio che tutti ascoltiamo e ricordiamo che le vendite di trap hanno sorpassato quelle di rock ormai da anni da due o tre anni se non mi sbaglio ma anche il rock comunque influenzato dalla musica afroamericana in particolare dal blues anche quello attuale anche Nirvana anche tutto quello che ascoltate adesso beh certo ma ovviamente trap rock e tutto quello che ascoltiamo è maggiormente influenzato dallo sviluppo da quello che è la risultante dello sviluppo della musica afroamericana e non c'è scampo non c'è scampo provamelo Paolo beh ad ecco questo episodio generale non lo voglio provare qua perché ho già fatto altri episodi dove vi ho fatto tutta una serie di liste catene di condivisione musicale di trasmissione di caratteri musicali dove vi faccio vedere da dove James Brown ha appreso il funk da dove nell'hip hop blues soul funk e jazz si sono trasmessi c'è tutta un'analisi che ho fatto di determinati pezzi anche analizzando diversi pezzi prodotti da Dre per Tupac e per altri si può fare tutta un'analisi di quei caratteri musicali e si può vedere da dove si prendono l'armonia il tipo di suono particolare quindi il timbro e il suono usato in production quindi il production sound da dove vengono presi come vengono elaborati cioè ci sono dei bellissimi video di Dre in studio dove te lo fa vedere ancora coi bobine a 16 o 24 piste nel suo mega studio e come vengono poi elaborati e messi su master finale per essere poi messi su disco e venduti cioè qual è l'output finale di queste cose c'è tutta la tradizione soul funk e blues ma c'è tutto ma anche nel rock gli accordi le scale di blues eccetera come le pentatoniche si siano evolute tramite l'apporto della musica blues è lo possiamo ascoltare nei risultati del rock degli anni 90 80 70 ci sono un sacco di cose sui soliti nomi non ciò vale neanche più di farli perché dovrei tirare fuori i dischi e fare degli esempi ma ce ne sono una barcata se volete delle prove pratiche o vi andate a vedere gli episodi di The Man in Red dell'altro canale che avevo fatto dove ho parlato in maniera estesa di queste cose poi ci sono altri due o tre episodi su questo canale dove parlo della trasmissione dei caratteri musicali e faccio due o tre esempi non mi ricordo quale possa essere però in Hip Hop Ninja ho parlato sono andato un po' nel dettaglio ma anche in uno dei miei episodi precedenti dove ho parlato della necessità di conoscere il rap della trap come sottogenere di quello che è effettivamente il rap degli anni 70 80 90 eccetera o meglio della sua evoluzione e trasformazione lì forse c'è però in alcuni episodi di The Many Red c'è tutta questa soprattutto nell'episodio di 9 ore quello che si chiama considerazione no non me lo ricordo andatevi a vedere su questo canale ci sono due episodi uno di 9 uno di 4 ore adesso non mi ricordo un cazzo sono cominciando a dimenticarmi tutto e ci stanno appunto lì diverse parti in cui parlo di come dal Bronx si è trasformato tutto un blocco enorme di musica afroamericana e di come questo ci sia stato consegnato negli anni 80 e 90 e poi si sia trasformato successivamente fino ad arrivare all'R&B alle meravigliose cose che poi si sono trasformate in altre cose ancora con tutta una serie anche di trasformazioni interne non da poco si consideri l'Electro si consideri l'Ipaus che ho già menzionato e tante altre cose che denotano un matrimonio tra l'Aus e diciamo le ritmi che si incopate delle basi e delle delle musiche rap bar hip hop in maniera inconfuttabile già dagli anni 80 per chi pensa che i peccatoni siano stati fatti negli anni 2000 ma i peccati semmai si può parlare di peccati io non penso proprio gli incroci e gli studi e le curiosità si sono sviluppate già da prima non sono state fatte a caso esistono già dei processi di contaminazione ormai da sempre nella musica quindi ci vuole una conoscenza secondo me totale anche generale non specifica dello sviluppo della musica afroamericana perché quello che abbiamo oggi non ci sarebbe senza la musica afroamericana stessa cioè noi non avremmo la musica pop da radio che abbiamo se non ci fosse stato se non ci fossero stati il blues il jazz l'rnb il soul il funk il rap l'hip hop tutte le cose connesse a questi generi ovviamente e la trap che non avremmo avuto appunto se non avessimo se non ci fossero stati tutti questi grandi generi barra culture barra movimenti artistici che hanno fatto la storia del mondo musicale così come noi lo conosciamo radiofonicamente e televisivamente e questo include anche tutti i vostri cantautori italiani preferiti anche quelli anni 70 ciò battisti era ispirato al soul laura pausini è meglio che stenda un velo pietoso bravissima meravigliosa divina non ve la voglio neanche toccare perché so che a molti di voi piace ad alcuni di voi piace ma 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 lei piena di riferimenti soul e disco e la soul e il disco la soul e la soul disco sono cose che vengono da evoluzioni della disco e del soul il soul a sua volta viene da evoluzioni del rhythm and blues che a sua volta viene da evoluzioni del soul e l'incrocio di quest'ultimo con tante altre belle musichette che c'erano negli anni 30 e 40 vedasi la genesi della Atlantic Records non smetterò mai di novinarvi non smetterò mai di mettervi davanti a naso quanto questa etichetta sia stata importante perché è vero che in America c'è stata anche la fantasy che è un'altra etichetta enorme indipendente tra le altre cose che ha creato del rock eccezionale e del funk e del soul eccezionale ma notate bene queste grosse etichette degli anni 70 Atlantic anche l'Electra Zilum ma la fantasy la Warner stessa un colosso hanno creato sempre cataloghi rock ed R&B bar funk allo stesso momento in parte perché noi sappiamo che verso la fine degli anni 60 le major penetrano il mercato della musica afroamericana prendendo e conquistandosi delle fette di mercato questo è nei libri nel famoso report di cui vi ho parlato che prima erano di proprietà o meglio di proprietà erano un monopolio a tempo determinato chiamo io delle piccole etichette piccole grandi medie etichette indipendenti americane che c'erano Carton Fantasy Paula la stessa Motown è un indipendente che poi è diventata proprietà major se non sbaglio negli anni 70 ma la stack stessa la Blue Note adesso non più ma all'epoca negli anni 60 erano indipendenti anche se c'erano cordi di distribuzione con le major ma l'etichetta in sé non aveva un un board un come si dice un board administrator on board meeting formato da maggioranza di membri di una major erano la King Brown parla in maniera specifica dagli anni 60 70 quando passa dalla King alla Polidor dove la King sapeva che aveva a che fare con due o tre persone Massimo che erano appunto se non sbaglio uno era il direttore generale il padron addirittura il possessore delle share l'altro era il suo ENR aveva a che fare con questi due faceva un po' quello che voleva invece in Polidor aveva molta meno libertà perché ovviamente in Polidor aveva a che fare con un gruppo di amministratori e di persone che gli chiedevano conto con dei calcoli precisi di quello che è il mix di generi che lui doveva inserire negli album ed è per questo che su Polidor James Brown fa un album disco che non è tra i migliori che ha fatto anche se ci sono dei momenti interessanti è un album che lo stesso Brown ha detestato e vabbè l'ho già ripetuta mille volte sta cosa era giusto per probabilmente vi sarete anche segnati il momento in cui l'ho ripetuta però è importante questo perché se voi non capite che appunto la Soul e la disco della Pausini vengono da tutta una serie di trasformazioni che arrivano dagli anni precedenti perché non esiste nulla che dei geni incredibili italiani o francesi o tedeschi o inglesi abbiano inventato senza l'ausilio della musica afroamericana ebbene ritornando al discorso di ancora prima cioè ricollegandomi ai testi che insegnano l'armonia classica che parlano solo di armonia classica e per questo guardatevi il meraviglioso video di Adam Neely sui West sulla predominance del Western Music System dovremmo avere dei testi ci sono ma non sono in uso nelle scuole che ai pimpi e ai ragassuoli che sono desiderosi di imparare a musicare magari non in senso classico cioè che non vogliono crearsi una carriera di musicisti classici venga loro data la possibilità di studiare armonia e arrangiamento e contrapunto jazz o comunque afroamericano quindi tutta una serie di corsi ci sono dei testi molto belli che ne parlano di questo ci sono anche dei corsi qua in Inghilterra e negli Stati Uniti però quando si parla di educazione musicale è un po' come la danza degli anni 70 quando si pensava che prima bisogna studiare il classico e poi bisogna studiare tutto il resto peccato che esistono dei ballerini eccezionali che hanno lavorato con Janet Jackson con Michael Jackson eccetera alcuni dei quali avranno anche studiato classico altri no e sono tutti allo stesso livello i ballerini di Madonna già negli anni 80 non venivano tutti dal classico alcuni sì alcuni no ballerini che hanno fatto la storia di Club MTV chi è che guardava Club MTV quindi non solo Camille Grammar perché era una bella figa che poi è diventata una celebrità ma ci sono dei ballerini che fanno delle robe su MTV che sono pazzeschi pazzeschi non hanno mai studiato classico c'erano tutte le interviste i ballerini di Soul Train gente che ha fatto carriere carriere nei videoclip che ha in fatto aperto scuole ha fatto i soldi quindi ci possono essere tutta una serie di carriere di cose che costruite in completa assenza di un training classico e i ballerini di classico buttati in esperienze di danza che non sono che sono street dance alcuni hanno fatto ok altri hanno fatto veramente schifo è un po' come dire se tu vuoi suonare blues e funk al piano ad esempio al flauto devi fare tutto un training classico no 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 a Londra esistono dei maestri che ti prendono da zero da zero e ti fanno partire dal jazz e tu vai avanti e diventi un musicista se continui a studiare e ti eserciti non come faccio io che non c'ho mai voglia diventi un bravo musicista che si esprimerà all'interno di queste di questa ed altre musiche poi volendo puoi sempre completare con un po' di classico un po' di conoscenza classica ma nel classico ci sono tante cose che nel jazz non si fanno nel jazz ci sono tante cose che nel classico non si fanno non voglio star qua adesso parlare di cose che non sono di mia competenza perché non sono un maestro di piano lo sto studiando ho un maestro e ne ho avuti altri nel passato e ho accumulato tutta una serie di testi e di informazioni che mi hanno fatto capire qual è il problema in città così grandi come Londra dove io mi trovo adesso o come New York o anche in città con molta presenza di afroamericani tu troverai dei maestri che ti insegnano il jazz e vai avanti così e ti impari tutte quelle belle coloriture neo soul che io voglio imparare per le mie production che sono quello che mi piace suonare che mi piace ascoltare eccetera e poi ovviamente qualcosa di classico perché no per esempio tutti gli esercizi sulle terze tutte le terze come si chiamano terze ascendenti e terze discendenti terze minori discendenti e ascendenti tutti quegli arpeggi di classica io guardo mi piace downloadare i pdf da Nair Soul N-A-R-E-Soul che ha un bellissimo canale dove appunto insegna e parla di training classico e di arpeggio di cose però se voi vedete qual è la tendenza nel 2021 e parliamo di cose concrete moderne di adesso e sempre di vecchiumi la tendenza è quello di unire tutta la conoscenza classica tutta la conoscenza jazz e creare una bellissima nuova disciplina un po' più grigia dove avremo una serie di elementi afroamericani e classici che staranno assieme alla fine se la scala diatonica è quella mi va benissimo Bach e tutto il resto ma voglio anche tutti gli sviluppi degli accordi dissonanti nel bop e tutta una serie di informazioni su come gestirli in un voicing complesso in un R&B evoluto del 2021 cioè questo che mi importa voi vi ascoltate i grandi della musica degli anni 70, 80, 90 cioè Quincy Jones Herbie Hancock che sono i colossi cioè questi due pesi che determinano tutto alla fine tutto tutto hanno determinato sti uomini qualsiasi cosa io abbia sentito nella musica suonata live nella grande musica certo c'è l'influenza di Davis eccetera ma nella modernità cioè negli ultimi 15 anni ci sono sempre loro di mezzo nella fusion nel funk in queste cose qua cioè come influenza intendo non nelle produzioni in produzione hanno fatto un sacco di roba però a livello proprio di influenza su musicisti anche a Londra New York è quello che sento io e allora questi colossi che poi ovviamente devono tutto anche Hancock ha suonato con Davis no al grande Davis all'armonia di Davis nei primi anni 70 che è un altro un altro bastione importante ma diciamo limitandosi a quello che ci hanno portato Hancock e e Jones l'armonia di adesso quella che è Neo Soul che potete vedere su Youtube ci sono un sacco di tutorial molto belli di canali che vi fanno vedere delle cose interessanti questa armonia è interessante ma è costituita da elementi che vengono da intromissioni del bop del jazz più arcaico del blues e tutte queste cose assieme che vanno studiate magari all'inizio separatamente cioè prima ti studi le scale di blues le pentatoniche e le scale di blues ovviamente assieme alle scale diatoniche diciamo maggiori e minori no poi ti studi qualche scala cromatica e nel frattempo incominci a fare fai esercizi e incominci a vedere un po' di armonia 2, 5, 1 e tutte quelle cose poi vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti c'è un momento dopo anni che unisci tutti questi elementi e arrivi all'armonia di Secret Garden di Quincy Jones o alle armonie di Just Around the Corner di Harvey Hancourt che sono i pezzi dove c'è un po' la somma di tutte queste cose messe assieme c'è un po' di classico c'è un po' di afroamericano eccetera ma c'è un bel po' di afroamericano c'è un bel po' di accordi bop di coloriture di voicing particolari che non si possono imparare se non si fanno tutte le basi cioè ragazzi se non si parte da questo non si può arrivare a quello cioè non si può partire dal classico per arrivare a quello perché partire dal classico per arrivare a quello a un certo punto dovrete per forza andare sulle pentatoniche che poi vengono modellate in base alle influenze afroamericane diventano diventano si trasformano in quelle che sono le scale di blues più comuni in F e in G e poi ci sono i miscredenti che le fanno anche in A è un joke è uno scherzo ovviamente e in C però le scale di blues così come invece le ho studiate io qua a Londra da maestri che mi hanno Jason Rebello uno ma ce ne sono Tim Richards ce ne sono tanti altri che sono persone di carriera che hanno fatto dischi e contro dischi per cani e porci persone musicisti bravissimi questi qua ti danno all'inizio la prima cosa che tu impari le scale maggiori minori è la scala di blues perché con quelle con l'unione di queste tu crei tutta una serie di modulazioni poi si fa c'è anche tutto il blocco importante dell'armonia modale però visto ad esempio dal punto di vista del jazz e non della classica perché come voi sapete l'armonia modale anche nella classica si può vedere in relazione ad essa ma si può anche vedere in relazione anche al jazz quindi ci sono video e ci sono tutorial incredibili online che vi fanno vedere queste cose naturalmente bisogna partire appunto dalle cose di base dalle piccole dalle piccole esercitazioni su scale di blues su scale maggiori minori e su armonia blues di base per poi andare oltre e vedere tutto il resto però ci può essere tutto ci sono già testi e ci sono piani di studi che consentono di uscire da questo da questo mondo classico occidentale ed entrare un pochino in quella che è l'evoluzione negli Stati Uniti della cultura africana così come ce l'ha descritta Gunther Schuller così poi come ce l'hanno descritta tutti quelli che sono venuti dopo e così come si è trasformata all'interno della cultura hip hop e per questo che secondo me è importante parlare di musica in senso blues in senso di tradizione perché poi tradizione non è una parola di vecchia perché la stessa trap è musica vecchia è musica fatta con una batteria degli anni 80 che già negli anni 80 era considerata vecchia che nessuno ne voleva più era uscita nel 79 80 l'808 ed era considerata fake perché non aveva un suono come quello delle batterie normali ci hanno voluti anni perché ridiventasse di moda tramite l'hip hop se non sbaglio già negli anni 80 e negli anni 90 è incominciata a diventare rara perché ci sono state produzioni fatte con 808 e voce che sono diventate la base della cultura del rap di determinati gruppi di produttori che a sua volta sono diventate cose importantissimi per generi come la trappa ed altro quindi 707 non tanto ma è bella batteria della Roland 808 fondamentale per hip hop trap e per certi tipi di rap bar hip hop musica hip hop e trap e 909 house techno eccetera utilizzabile anche essa comunque in congiunzione con l'808 produttori voluti le usano tutti e due usano campioni tutti e due però poi diciamo parliamo delle cose semplici della base di come sono venute le cose all'inizio quindi niente sia a livello di produzione che a livello di musica la musica non è come un computer per cui se un computer è vecchio di 20 anni non serve a niente perché i computer di adesso fanno tutto quello che lui non fa e sono più veloci eccetera eccetera sono più performanti sono più funzionali sono computer che servono allo scopo di quello che è il loro uso nell'oggi la musica non è così musica che anche ci può sembrare adattata è sempre musica che ci può dare qualcosa ed è per questo che la musica è eterna cioè la musica non scade mai non scade come gli yogurt come il cibo come la tecnologia che un iphone vecchio non è come l'iphone nuovo perché l'iphone nuovo è più moderno volendo se se l'iphone vecchio o il telefono vecchio funziona si può usare ma la musica non è neanche qualcosa che ha una funzionalità limitata come un vecchio telefono e questo è il concetto che voglio farvi passare voi domani potete andare in estasi perché ascoltate Billie Holiday cantare un pezzo dal vivo negli anni 30-40 cioè voi non avete possibili non avete solamente possibilità di estasiarvi con musica fatta dieci giorni fa fa dieci giorni prima un giorno della vostra vita anche a quelli che ascoltano solo robe nuove dalle più nuove sono sicuro che qualcuno tra voi capirà la bellezza di un pezzo swing o di un pezzo classico di 200 anni fa perché effettivamente dei produttori di house negli anni 90 mi hanno fatto una testa così su Mozart se per loro Mozart era così attuale nel senso che lo ascoltavano come fosse lui vega dei masters at work cioè e non voglio fare i nomi di sti produttori ma ci mi hanno fatto del veramente delle teste così a me piace Rachmaninoff per me Rachmaninoff è il massimo per me ovviamente soggettiva come opinione è attualissimo Rak 3 ma anche tutte le altre cose che ascolto sue sono veramente interessanti ma tante altre cose di classico mi piacciono che non penso che siano vecchie sono attuali è musica è per sempre è fino al giorno in cui io camperò è l'ultimo giorno della mia vita io spero di avere della musica attorno e non mi importa se sia vecchia sia nuova mi dovrà emozionare è bellissimo è bellissimo ascoltare musica che non è di oggi perché la musica è come un circolo infinito di cose che ci vengono date anche dalla casualità a disposizione che scopriamo adesso da internet ma anche andando in un thrift shop andando dovunque parlando con un amico con un conoscente ascoltando qualcuno che parla per la strada in un ufficio dovunque e ci interessiamo a delle cose che non avremmo mai ascoltato che non avremmo mai pensato di mettere nel nostro computer nel nostro giradischi nel nostro cd nella nostra chiavetta e questa è la cosa importante la musica non è un computer la musica non è solo stata fatta in occidente ma anche in africa e in tante altre parti del mondo e non ho parlato dell'india non ho parlato dell'asia non ho parlato di altre cose se no complichiamo ulteriormente ma proprio per questo dobbiamo capire che non ci siamo solo noi occidentali noi siamo stati molto importanti ma anche gli africani sono stati importantissimi anche il jazz è importante tanto quanto il jazz è musica che può educare tante persone e chi sostiene che in Italia la musica afroamericana e la cultura jazz non sono cose che dovrebbero passare perché non sono cose nostre si sbaglia perché già sono cose nostre perché la maggior parte del cantautorato italiano propina agli italiani musica che è apparentemente parte della tradizione italiana quando in realtà c'è pieno di blues c'è pieno di soul c'è pieno di R&B contemporaneo c'è pieno di trap c'è pieno di sincopazione jazz c'è pieno di tutto quello che non è la loro tradizione musicale già negli anni 60 basta leggersi il mazzoletti basta leggersi quel libro che parla della musica progressiva italiana non me lo ricordo più lì c'è una lista di influenze americane enorme che negli anni 60 ha modellato tutta la storia della rock e del non rock italiano della cocktail della lounge di tutta la musica prodotta per film telefilm in Italia mamma mia ragazzi lasciamo perdere lasciamo veramente perdere e che per chi pensa che gli esperimenti sui sintetizzatori siano un dominio dei musicisti occidentali degli sperimentatori francesi europei eccetera beh sì certo lì c'è un grande apporto ma i sintetizzatori in mano ai musicisti americani negli anni 60 nella psiche dell'IA jazz c'è qualcuno che è un pochino esperto e che ha visto che cosa è stato combinato a riguardo e quanto quello sia stato importante per noi ok poi un giorno faremo delle puntate in cui compareremo le produzioni fatte in Italia e in Europa da produttori di librerie musicali che hanno prodotto appunto libri per la radio e la televisione cioè dischi scusate dischi per la radio e la televisione poi venivano messi come sigle per i bumper televisivi eccetera e quelli che invece sono state le sigle televisive o le musichette prodotte per la televisione in America e quale delle due forme ha predominato su quello che è la di quelle che sono le sonorità e le cose a cui siamo più familiarizzati oggi questo è molto importante molto importante io sono dell'idea che non si possa vivere proprio musicalmente senza riconoscere cioè non si può essere onesti senza riconoscere che non siamo stati noi occidentali bianchi a fare a costituire le basi lo scheletro e anche la sostanza di molta della musica che ascoltiamo oggi anche di quella più insospettabile che pensiamo sia fatta appunto solo in base a criteri diciamo stilistici tecnici estetici armonici europei degni di degni dell'eredità della grande Europa miteleuropea che ha generato tutte le punte del pensiero occidentale Kant Hegel e poi dopo Adorno che ci hanno detto quanto è brutto e quanto è primitiva l'africano con le sue musichine ci voleva Marx per dire che non ci può essere emancipazione se bianchi e neri non si emancipano come classe lavoratrice c'è scritto c'è scritto questo c'è scritto nel capitale anche c'è scritto white and man white and black kingship la frase se non sbaglio eh adesso non voglio stare qua a argomentare perché mi ricordo questa cosa qua perché la stavo studiando settimane fa per una parte che sto scrivendo per il mio meraviglioso librozzolo che come vedete ho diligentemente evitato di menzionare fino adesso però comunque sì cioè chi vi parla pensa a questo pensa che la musica afroamericana sia un un pezzone di cultura assolutamente fondamentale fondamentale e non è inevitabile inevitabile quindi che altro dire ragazzi abbiamo fatto questa petite chiacchierata piena di svarioni un po' libera un po' così però ho voluto mettere in mezzo a livello più emotivo che tecnico perché sulla parte tecnica sto già scrivendo e studiando per una cosa che venderò e voi sapete ci sono già tante cose che sto facendo plof e che in questi episodi voglio evitare di duplicare perché allora qua faccio una duplicazione dei miei studi invece qua c'è la parte un pochino più umana un pochino più pasticciona ma un pochino anche forse più comprensibile e su carta invece metto l'informazione più a livello tecnico voglio riservarmi uno spazio dove parlo come vi ho detto un po' dei cazzi miei ma anche non solo dei cazzi miei ma del cazzo di modo in cui a me piace esprimermi colloquialmente perché se no diventiamo tutti quanti dei fornitori di dati o dei creatori di lezioni online e le lezioni online ancora io non le voglio fare non mi è mai piaciuto perché a me piace avere la gente qua in studio quelle poche volte che c'ho qualcuno persone alle quali insegno o trasmetto un po' di sapere in maniera colloquiale facendo vedere due o tre cose facendo anche due considerazioni storiche buttando giù anche due o tre elementi di cultura così si spendono quelle due o tre ore di chiacchera dove però si impara qualcosa che è qualcosa di più che una nozione tecnica ma dove c'è anche un contesto che anche nella sua forma presa uno impara sempre meno di quello che gli viene detto perché giustamente filtra noi filtriamo io stesso mi ricordo la metà di quello che uno mi dice però ovviamente con tanto contesto rimane di più e rimane di più abbastanza magari poi per sviluppare punti di ricerca anche diversi da quelli di chi ti ha detto la cosa che però danno la possibilità di capire un po' di più l'importanza di certi movimenti musicali che secondo me sono importanti io ormai a 54 anni voglio chiudere un po' quindi ho questo discorso voi che avete 20 anni ovviamente volete aprirne un altro e spero che anche se siate gli eredi di tutto quello che c'è stato musicalmente fino adesso rappresentiate in maniera più onesta di come hanno fatto quelli che vi hanno preceduto quando hanno messo solo un determinato tipo di musica occidentale davanti a tutti gli altri facendo credere che quella fosse la cosa più importante grazie di avermi seguito non bevete troppo e quando mangiate le torte offritene un pezzettino anche a me grazie a tutti Grazie a tutti.